E' povera una famiglia su sei in Italia, le altre vedono ridotto il potere d'acquisto, ma in Europa sono comunque le meno indebitate. Le formiche italiane però riescono a risparmiare sempre meno. La spending review delle famiglie colpisce anche le cure sanitarie. Per colpa delle doppio ticket in Veneto, 2 milioni di esami clinici, meno nelle 2012. E nel poliambulatorio di emergency a Marghera, un paziente su 5 è italiano. Rateizzare i contributi d'avversari all'Inps e alla pubblica amministrazione con tassi sopportabili. Chiedono anche queste le piccole e medie imprese che fanno fatica a coprire le scadenze fiscali. Le regioni delle Nord voltano le spalle a Lazio, non vogliamo i vostri rifiuti. Ma la Lombardia di Maroni lancia la provocazione. Dateci i soldi per la nostra cassa integrazione e noi smaltiamo la vostra spazzatura. Ha ascoltato le parole del padre che al processo si è autoaccusato di aver ucciso la compagna. Denise Cosco è la ragazza rimasta senza madre per una vendetta andrangheta e all'uomo dice che quelle parole non bastano. Buon poveriggio a tutti voi dal Tg La 7 Cronache. Dunque famiglie italiane sempre più povere, sempre più in difficoltà di fronte alla crisi economica. alle prese con stipendi sempre più bassi, con redditi sempre più bassi, disoccupazione e precarietà. E poi ci sono le tasse, le tasse da pagare, sempre di più e sempre più alte. La ricchezza, se ancora c'è, arriva in buona parte dal passato, da quanto le generazioni precedenti sono riuscite a mettere da parte, ma adesso non basta più. Una ricchezza che arriva soprattutto dalla casa di proprietà. I confronti fanno sempre male e a volte sono anche fuorvianti. Leggendo infatti i dati diffusi ieri dalla BCE e da Banca Italia sulla ricchezza di italiani, tedeschi e francesi, insomma dei principali paesi di area euro, l'Italia arriverebbe infatti prima in questo confronto a tre. Stando quindi a questi dati, un italiano mediamente avrebbe nelle proprie tasche 13.000 euro in più rispetto a un tedesco. Ma allora perché le famiglie italiane sono costrette a continui salassi fiscali? Panoramene, dico la domani, calcola che una famiglia di 4 persone con un reddito di quasi 45.000 euro ne versa in tasse quasi 19.000, tra IRPEF, Imposte Varie e IMU. Un primo indizio arriva dalla BCE, perché se si va a vedere da dove deriva tutta questa ricchezza, allora i dubbi iniziano a diradarsi. È il mattone, come al solito il bene rifugio e la ricchezza principale. Non a caso è il bene più tartassato. Circa il 70% delle famiglie italiane è proprietaria di casa, rispetto a una media europea del 60%. C'è poi il fatto che gli italiani storicamente sono meno indebitati quando si tratta di acquistare beni e servizi, fanno meno ricorso al credito al consumo, alle carte di debito e così via. Se da una parte dunque la proprietà del tetto domestico ci rende più ricchi, dall'altra parte è il reddito, ovvero il flusso di ricchezza al netto di tasse e di imposte sempre crescenti, che passa nelle nostre tasche a renderci oggi sempre più poveri rispetto sempre a Francia e Germania, dove il livello della tassazione è inferiore al nostro. Il confronto a distanza di un anno, dal 2011 al 2012, è infatti a dir poco impietoso, con il segno meno in evidenza nel reddito, negli investimenti fissi e nel potere d'acquisto delle famiglie. Per intenderci, un calo simile sul potere d'acquisto non si verificava dal 1995. Le ultime manovre finanziarie infatti sono certo servite a mettere in sicurezza il paese, ma hanno dato una vera batosta ai nuclei familiari. Se poi a questo aggiungiamo i problemi delle imprese e l'aumento della disoccupazione, ecco quindi spiegare perché gli italiani ormai fanno tanta, troppa fatica ad arrivare alla fine del mese. Una crisi di cui parliamo ogni giorno che diventa tangibile, quando parliamo soprattutto di sanità e di cure mediche. L'allarme arriva dal ricco nord-est, dai medici del Veneto. In questa regione nell'ultimo anno ci sono stati 2 milioni in meno di esami, anche per l'aumento del ticket sanitario. In altre parole, se la gente ha meno soldi, si cura di meno e cerca anche di rimandare le prestazioni sanitarie meno urgenti. La crisi economica passa anche dal centro di emergency di Marghera, dove prima andavano gli stranieri, adesso sono sempre di più gli italiani che frequentano questo poliambulatorio. Uno su cinque è italiano. La fredda contabilità della crisi passa anche dal poliambulatorio di emergency a Marghera. a pochi chilometri da Venezia. Qui sono in aumento i malati di nazionalità italiana che chiedono aiuto all'organizzazione fondata da Gino Strada, che offre cure gratuite ai migranti e agli stranieri. Le persone non hanno più nemmeno i soldi per pagare i ticket. Rilevano i medici di emergency. 36,15 euro di base, più 5 o 10 euro per la specialistica, a seconda del reddito inferiore o meno ai 29 mila euro l'anno. Qualcuno sceglie drammaticamente di non curarsi. Il rapporto OASI 2012 dell'Università Bocconi certifica ad esempio come il ticket sui farmaci sia aumentato del 40%. Emergency rappresenta una piccola lente di ingrandimento sui mille risvolti della crisi. In tutto il Veneto la situazione vede numeri in calo. La regione ha segnalato una perdita di oltre 2 milioni e 200 mila prestazioni ambulatoriali. Il CUP dell'azienda ospedaliere di Padova ad esempio ha perso il 30% delle prenotazioni. L'ASL 9 di Treviso e il 15-17%. A Verona c'è un meno 4. La lista è d'attesa che fino a qualche anno fa, due anni fa circa più o meno, erano quasi impossibili, insomma, gente che aspettava anni per avere una visita. Improvvisamente è crollato il discorso. Ci sono parecchi pensionati, pensioni che vanno dai 500 ai 700 euro al mese, non sono più in grado di pagare le prestazioni, pagare i ticket sulle prestazioni e quant'altro. E rinunciano, sempre più rinunciano a farsi visitare, andarsi a fare piccoli interventi e quant'altro che non ce la fanno. Sono costretti a rinunciare. Se si pensa che il Veneto insieme a Emilia Romagna, Toscana e Lombardia è una delle regioni cosiddette virtuose in termini di assistenza sanitaria, si capisce come la situazione sia difficile. Il Censis ha già certificato che oltre 9 milioni di italiani nel 2011 non hanno avuto accesso a cure mediche per ragioni economiche, mentre la Confcommercio registra 615 nuovi poveri ogni giorno. Potrebbero rivolgersi ai servizi sociali dei comuni, chiedere assistenza, ma sappiamo, noi siamo un popolo veneto, che a volte ci vergogniamo di chiedere perché abbiamo bisogno. Una crisi che colpisce direttamente il cuore delle imprese. Adesso lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione potrebbe dare un po' di ossigeno alle aziende, alle piccole e medie imprese. Però è necessario metterci tutta l'energia possibile per far ripartire l'economia. L'allarme di Confindustria e proprio di questa mattina serve un governo di persone di buona volontà che affronti i problemi reali dell'economia, ha detto Squinzi. Certo, poi ci sono le scadenze fiscali che devono essere onorate, le piccole e medie imprese si trovano poi di fronte ad un importante dilemma, pagare gli stipendi oppure le tasse. Si va dalla Tarso del pensionato che non ce l'ha fatta a pagare fino all'impresa che è andata in crisi. Un mondo che va, ripeto, dalla Tarso all'Irpef, alla Previdenza, tutto. Pagare le tasse o i dipendenti, versare contributi ai lavoratori o rinunciare a investimenti. Le imprese, soprattutto piccole e medie, che non riescono a sostenere la pressione fiscale, scelgono di pagare a rate quanto dovuto a Equitalia. Dal 2008 è stata introdotta la possibilità di rateizzare il debito erariale in 72 tranche. Fino ad oggi l'Agenzia delle Entrate ha concesso 2 milioni di rateizzazioni per un valore di circa 22 miliardi di euro. Se un contribuente si accorge di non riuscire più a pagare, e quindi ricordiamo che la rateazione decade dopo due rate non pagate. Quindi se si accorge per tempo di non riuscire a pagare, può chiedere una proroga della rateazione e questa proroga può arrivare ad altre 72 rate. Gli interessi? Per esempio per i tributi erariali il 4,5%. Altre, invece, enti che ci hanno fidato la rateazione hanno degli interessi che sono variabili, che sono stati stabiliti direttamente dall'ente. Molto spesso le rateizzazioni non sono comunque sufficienti per saldare il debito con il fisco ad aziende a loro volta in credito con la pubblica amministrazione. Io trovo scandaloso che quando io faccio un lavoro per te pubblica amministrazione mi paghi, forse, dopo un anno, senza interessi, quando io devo darti una cifra a te per delle tasse e a ritardo dieci giorni mi applichi degli interessi che sono da usura. Il debito che io ho con la pubblica amministrazione è un debito che devo poter compensare con i crediti che a mia volta vanto. È il caso di tanti piccoli imprenditori come chi fornisce servizi di gestione ad aziende indebitate con enti pubblici. Alcuni di nostri clienti lavorano anche per pubbliche amministrazioni. La loro difficoltà a recuperare questi soldi va a cascata anche verso tutti quelli che sono i varli interlocutori e i consulenti dell'azienda stessa come noi. Possiamo accumulare dei debiti nei confronti ad esempio dell'Inps e abbiamo trovato un meccanismo di richiesta di dilazione contributiva che ci permette di ammortizzare quello che era il nostro debito accumulato. E così debiti e crediti verso la pubblica amministrazione diventano il classico cane che si morde la coda. A noi è capitato legato proprio a un'azienda che aveva un credito nei confronti della pubblica amministrazione di un comune e noi nel rilevare questo credito abbiamo avuto purtroppo la risposta negativa in quanto l'accessione del credito non è prevista per gli appalti pubblici. Nel frattempo l'azienda non essendo in regola con il DURC ha perso il credito vantato al momento della liquidazione e non ha incassato il credito che aveva 25 mila euro più IVA. Sembra esserci un'Inpass normativa. Le aziende per poter accedere ad appalti pubblici devono presentare il DURC, documento unico di regolarità contributiva ma molto spesso non è in regola proprio perché le fatture emesse da aziende pubbliche non sono ancora state saldate e così si perde l'accesso a nuovi lavori che permetterebbero di tirare avanti e magari pagare le rate di Equitalia. E poi c'è l'altra grande questione quella dei rifiuti. I rifiuti di Roma non li vogliamo a meno che il governo non trovi 300 milioni che sono necessari per finanziare la cassa integrazione in deroga in Lombardia. Dunque è questa questione dei rifiuti e quella della spazzatura della capitale perché si è aperta questo caso perché domani chiuderà la discarica di Malagrotta che è il più importante impianto la più importante discarica d'Europa e quindi non si sa praticamente dove mandare la spazzatura dove mandare i rifiuti della capitale. La regione Lazio ha chiesto aiuto a tre importanti regioni del nord che sono tutte a guida leghista sono Piemonte, Veneto e Lombardia. Piemonte e Veneto hanno detto assolutamente no non vogliamo i rifiuti della capitale. La Lombardia, anche la Lombardia inizialmente ha detto no niente rifiuti dalla capitale e poi è arrivata questa provocazione da parte del governatore Maroni che dice appunto ok però il governo deve trovare questi 300 milioni. Non c'è il rischio Napoli prova a dare rassicurazioni il sindaco Gianni Alemanno sulla difficile situazione che si è venuta a creare nella capitale. Da domani infatti i rifiuti non potranno più essere portati alla discarica di Malagrotta la più grande discarica d'Europa infatti nella quale confluiscono i rifiuti di Roma e di una parte del Lazio è strapiena e dopo il deferimento dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia per il mancato trattamento biologico di alcuni rifiuti urbani prima del trasporto a Malagrotta in altri impianti del centro-sud ecco che ora arriva anche l'ultimatum con l'obbligo di chiusura da parte dell'UE. Dove andranno allora i rifiuti laziali? Si è aperto un braccio di ferro tra le regioni del nord e Roma e diciamo così perché sono Piemonte Lombardia e Veneto tutte a guida leghista a chiudere le porte quei rifiuti proprio non li vogliono e a Palazzo Lombardia è l'argomento del giorno il governatore Maroni ribadisce lo slogan vincente della campagna elettorale prima il nord e questa volta è prima la Lombardia suona così come una provocazione la proposta dell'assessore al bilancio Massimo Garavaglia che ha risposto alla richiesta del ministro dell'ambiente Clini con quella che sembrava un'apertura al compromesso va bene prenderemo i rifiuti laziali solo quando Roma ci darà i 300 milioni che servono a coprire la cassa integrazione in deroga una proposta che però il governatore Maroni intende più provocatoriamente quei milioni che servono come l'ossigeno i lavoratori lombardi in difficoltà non possono essere merce di scambio ma un atto dovuto nessun mercanteggiare tra rifiuti e cassa integrazione Maroni si allinea con i governatori del Carroccio di quella macro regione per la prima volta compatta su una linea antiromana i rifiuti del Lazio e di altre regioni non li vogliamo un problema che quindi torna nelle mani del ministro Clini quello della discarica ad ovest di Roma risale addirittura al 2004 quando già si diceva che nell'impianto non sarebbe potuto entrare più nulla ma la grotta doveva chiudere già nel 2007 i rifiuti trattati da questa grande centrale sono di circa 1000 tonnellate al giorno una quantità difficile da smaltire come la rabbia degli abitanti di cittadini laziali che non vogliono ampiamente di discariche vicino alle loro case riporcogliamo adesso la storia di Lea Garofalo ieri Carlo Cosco che sta scontando l'ergascolo perché accusato di essere il mandante dell'omicidio della sua compagna parlando davanti alla corte d'assise si è assunto la responsabilità di quell'assassinio la sua confessione tardiva forse potrebbe restituire un po' di serenità alla figlia Denise la coraggiosa ragazza che è venuta in aula a testimoniare contro il padre e ancora oggi vive costretta a vivere sotto protezione ma quelle parole per Denise non bastano una ragazzina Denise che vive sotto protezione da quando ha 14 anni il padre Carlo Cosco che confessa di aver ucciso sua madre Lea Garofalo ma non mi basta commenterà lei a caldo sullo sfondo c'è l'Andrangheta al nord e in tutta la sua brutalità Milano processo d'appello per l'omicidio della ex collaboratrice di giustizia rapita nella notte tra il 24 e il 25 novembre del 2009 e poi bruciata ieri l'ultimo colpo di scena già condannato all'ergassolo in primo grado per l'omicidio della Garofalo insieme ad altre 5 persone Cosco chiede di leggere alcuni fogli mi comunico che io vi assumo la responsabilità dell'omicidio di Lea Garofalo perché parla solo ora perché lui che ha sempre detto di essere innocente cambia versione si attribuisce tutta la responsabilità dell'omicidio tentando così di scagionare i fratelli anche loro condannati manda messaggi a qualcuno domande senza risposta quella dell'omicidio di Lea Garofalo è la storia brutta di un delitto di indrangheta nel nord produttivo una donna figlio di un boss calabrese che svela i dettagli degli omicidi di mafia dell'inizio anni 90 a Milano una cosca originaria di Petilia Policastro in Calabria è trapiantata a Milano in via Montello quartiere Sempione dove controlla il mercato dell'eroina un piccolo boss che vuole fare carriera e per vendetta organizza la sparizione della compagna e poi l'uccisione sotto gli occhi della figlia Denise che ha sempre saputo tutto Lea e Denise sono a Milano la sera del 24 novembre passeggiano vicino all'arco della pace in attesa di Carlo Cosco le telecamere della zona le riprendono prima insieme poi a un certo punto Lea è da sola sale su una macchina e sparisce nel nulla i resti del suo corpo saranno ritrovati grazie alla confessione di un pentito in un cantiere abbandonato dell'abrianza sarà lui a svelare che la donna non fu sciolta nell'acido ma bruciata finché rimanesse solo cenere ha detto la figlia ricostruisce le giornate passate insieme alla madre a Milano invitate proprio dal padre in aula il 20 settembre del 2011 nascosta dietro un telo perché sotto protezione racconta i dettagli di quella giornata mi ricordo di aver fatto corazione e mi ricordo di aver passato il pomeriggio con i miei cugini in una piazzetta di vicino e praticamente mi sono seduta telefonicamente con mio padre il quale mi disse che appunto ci incontravamo comunque di pomeriggio tardi vicino a casa in un bar di vicino i suoi ricordi aiuteranno gli inquirenti Denise testimonia contro suo padre vuole la verità ascolta impassibile i dettagli dell'uccisione della madre e va a tutte le udienze fino a quella di ieri oggi a 21 anni e vive protetta per me incomprensibile e inconscepibile che mia figlia Denise sia sotto protezione da chi deve essere protetta io do la mia vita per mia figlia lui continua a parlare a Denise dice di meritare il suo odio io adoro mia figlia merito il suo odio perché l'ho uccisa la madre non basta una confessione di poche parole ora papà deve dire tutto commenterà Denise la ricerca della verità è più importante della ferita che non si chiude e torniamo adesso sui fatti delle G8 di Genova del 2001 infatti oggi il Tribunale di Sorveglianza di Genova dovrà decidere sulla concessione e l'affidamento in prova ai servizi sociali dei dirigenti di polizia che sono stati condannati in Cassazione per quanto è successo alla scuola Diaz appunto nel 2001 in tutto sono 17 super poliziotti ci sono anche gratteli e luperi però il procuratore generale di Genova si è detto contrario alla concessione dei servizi sociali hanno mostrato indifferenza anzi le loro carriere sono progredite ha scritto in una memoria e questo significa che alcuni di loro condannate in Cassazione adesso rischiano il carcere i giorni di sangue del G8 di Genova il processo sull'irruzione nella scuola Diaz per Francesco Gratteri ex capo della direzione centrale anticrimine si è racchiuso con una condanna a 4 anni 3 anni sono stati cancellati dall'indulto ne è rimasto 1 da scontare in carcere i giudici del tribunale di sorveglianza di Genova si sono riuniti oggi per decidere se Gratteri dovrà finire in carcere o accedere a pene alternative l'alto dirigente della polizia ha chiesto di scontare la pena negli uffici di un'associazione di volontariato come i suoi due colleghi Gilberto Caldarozzi capo del servizio centrale operativo e Giovanni Luperi capo del dipartimento analisi della Isi i servizi segreti interni tutti e tre sono stati condannati per falso aggravato unico capo di imputazione sopravvissuta alla prescrizione per la prima volta Gratteri Luperi e Caldarozzi entrano in un'aula del tribunale per essere interrogati dai giudici finora non l'avevano mai fatto ma ora si tratta di convincere i giudici ad affidarli ai servizi sociali contro di loro c'è una memoria a firma del procuratore di Genova Vito Monetti che sostiene come al momento non sussista alcuno dei requisiti fondamentali che consentono ai condannati di ottenere le pene alternative il suo parere assolutamente negativo e ne elenca i motivi innanzitutto la gravità dei reati commessi per i quali l'Unione Europea chiede pene non simboliche quindi l'assenza di qualsiasi pentimento anzi l'assoluta indifferenza per le vittime e non ultimo il fatto che non abbiano ancora versato un soldo di risarcimento denaro anticipato dallo Stato che dovrebbe essere poi rimborsato dai condannati il procuratore Monetti attribuisce maggiori responsabilità per quanto accaduto proprio a Gratteri Caldarozzi e Luperi ex dirigenti che occupavano quindi posti di comando e scrive che i super poliziotti ebbero un comportamento negativo nel corso delle indagini non collaborarono affatto con i magistrati inoltre sono evanescenti i progetti di lavoro socialmente utili presentati dai condannati Gratteri da gennaio lavora come volontario ad uno sportello romano anti-racket ed ora Tanno Grasso presidente della fondazione anti-usura gli apre le porte e chiede che sconti lì la sua pena Francesco Gratteri è un gigante della lotta al crimine ha detto Tanno Grasso io sono onorato di potermi avvalere della sua professionalità la decisione ora i giudici del tribunale di sorveglianza che si pronunceranno il 17 aprile e forse qualcosa si muove in meglio nella vicenda dell'istituto dermatologico dell'immacolata di Roma al centro di un'inchiesta giudiziaria che ha portato agli arresti domiciliari dell'ex numero uno padre decaminata e di altri due due suoi collaboratori per un buco di 14 milioni di euro da mesi i dipendenti della struttura che è un fiore all'occhiello della sanità laziale non ricevono più lo stipendio e rischiano il posto di lavoro ma dicevamo qualcosa si muove in meglio per riallacciare i fili con i dipendenti dell'istituto dermopatico dell'immacolata stremati da otto mesi senza stipendio il Vaticano ne ha invitati 50 all'udienza generale di stamattina saluto il gruppo di dipendenti del ID auspico che quanto prima si possa trovare una positiva soluzione in una situazione così difficile qualcosa si muove ieri sera amministrazione ID e sindacati hanno firmato un accordo che sancisce il ritiro della procedura di mobilità per i 405 esuberi annunciati ma ora quei tre ospedali che fine faranno ci pensano in due il segretario di stato Bertone e il suo uomo più vicino il cardinale Versaldi nominato da Ratzinger il 15 febbraio delegato pontificio dell'IDI è l'uomo che al sinodo dei vescovi in Vaticano a ottobre suscitò imbarazzo con un decalogo cui attenersi nei casi di malversazione corruzione e malgoverno trasparenza non significa automaticamente pubblicizzazione del male che porta allo scandalo scrisse Versaldi più in breve i panni sporchi si lavano in famiglia i frati dell'immacolata concezione hanno sempre rifiutato di alienare i loro beni per far fronte al passivo ma questo è quello che si farà subito dopo visto che Papa Bergoglio ha altre priorità e non è intenzionato a tirar fuori i 200 milioni necessari per comprare gli ospedali Bertone e Versaldi potrebbero coinvolgere Giancarlo Elia Valori imprenditore cattolico e democristiano dai tempi di Fanfani e Bernabei abile diplomatico presidente di mille società personaggio che ha sempre coltivato intense relazioni con la curia romana Valori potrebbe aiutare Bertone a coronare il sogno di una vita l'unione degli ospedali del Lidi con l'ospedale pediatrico del bambino Gesù per dar vita al primo policlinico Vaticano quanto all'inchiesta dopo il GIP ieri adesso sono i PM a dover interrogare padre Franco De Caminada l'ex numero uno del Lidi con parto sanità accusato di aver sottratto 4 dei 14 milioni spariti lui cade dalle nuvole tutto accadeva senza che io sapessi ha detto non potendo negare la proprietà del casale di 18 stanze in Maremma ha chiarito che nel 2008 lo comprò per assecondare un confratello che voleva farne una comunità spirituale è questa la linea difensiva del frate che spendeva e sprecava mentre l'istituto accumulava un passivo da 600 milioni il 20 dicembre al senato la commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale accolse per un'audizione i massimi rappresentanti della congregazione il senatore Pdl Saccomanno fu durissimo dispiace che non trovi una risposta particolare della congregazione che prende parte del suo avere e lo mette a disposizione adesso per Natale prima degli altri ospedali per queste persone in Italia e nel mondo sono centinaia le proprietà dei concezionisti vendendo qualcosa si sarebbero pagati almeno gli stipendi arretrati di 1800 lavoratori e adesso ci fermiamo per la pubblicità tra poco alle 14.31 ci fermiamo qui non ci sono altri aggiornamenti come sempre torniamo domani alle 14 grazie per averci seguito e buon pomeriggio grazie per averci seguito